C'è grande fermento su Facebook per quanto riguarda l'interpretazione della vignetta di Charlie Hebdo sul terremoto. Ecco, ci sono coloro i quali la interpretano in una maniera, quindi accusano il giornale di fare una satira un po' pesante e chi invece la interpreta in un'altra. Tra, diciamo, quelli che sono gli innocentisti c'è Emanuele Verde. Che cosa vuol dire quella vignetta? Tu come la leggi? No, io la leggo in chiave politica e cioè, come ha autorevolmente riportato Alessandro Giglioli, che è un blogger dell'Espresso, un blogger, un giornalista dell'Espresso, se l'autore avrebbe, diciamo così, la sabbia, il gratinato rappresentato, le case di sabbia e le scuole che sono antisismiche pur non essendole e quando si costruisce sulla sabbia dal gratinato si passa alla lasagna. Insomma, quindi è una denuncia politica a futura memoria per l'efficientamento antisismico degli edifici. Ma insomma, poi il punto non è neanche tanto questo. Il punto è che il compito della satira è quello di fare scandalo e dallo scandalo poi suscitare dibattito. E dalla qualità del dibattito poi si possono fare tutta una serie di considerazioni sul livello, sulla qualità dell'opinione pubblica. E secondo me la qualità dell'opinione pubblica è italiana, ma non è che voglio fare all'altezzoso, però è scadente. Cioè la riflessione è subito andata sul carattere nazionale, cioè i francesi contro gli italiani, sul significato della satira, la roba complessiva del significato della satira. Boh, cioè si fa prima a dire cosa non è satira. La satira non è comicità, cioè non sta scritto da nessuna parte che debba far ridere. Può succedere che faccia ridere, ma non è tra i suoi compiti. Insomma, poi ecco tutta questa ansia classificatoria, insomma, dobbiamo preliminarmente stabilire cos'è la satira, il carattere nazionale degli italiani versus quello dei francesi, insomma, è un po' stancato. Io non riesco a trovare parole migliori, ma penso che questa deriva identitaria, molto social, è un virus che va combattuto senza sosta, senza trego.